Buon pomeriggio! Direi però di partire dall'Inter, da questa sconfitta inaspettata, un punto in tre partite, quindi la frenata è netta e oltretutto stavolta è vero che c'è l'attenuante del fatto di aver giocato una gara molto dispendiosa come quella con Liverpool, di averla anche fatta bene sul campo, per quanto poi il risultato non sia stato soddisfacente, però se prima l'Inter fino a questo momento in campionato aveva dimostrato che questo tipo di gara in un modo o nell'altro, cioè sia con prove importanti sia in difficoltà magari altre, però otteneva sempre la vittoria, mentre i problemi erano negli scontri diretti, quello col Sassuolo sembrava sulla carta una partita più agevole, così non è stato, ma non è stato così fin dall'inizio, quindi l'idea della stanchezza può essere stanchezza mentale, non certo fisica di come si è sceso in campo, l'assenza di Brozovic e Bastoni possono pesare sicuramente, ma non abbastanza per giustificare una squadra che sta mostrando comunque dei problemi con continuità e penso ai singoli in questo caso, cioè Andanovic, Lautaro e lo stesso Dzeko e Inzaghi però francamente sulla formazione, la scelta di Barella in mezzo? Di Marco invece che D'Ambrosio, Gagliardini, Gagliardini non Vidal, ieri Tranzaglia andava... E però allora così vuol dire che non può toccarla mai, cioè se non può mettere neanche una volta Gagliardini in panchina... No ma devi capire quando, Gaglio, quando, cioè dopo il Liverpool, tu affronti il Sassuolo, che sai che è una squadra che con le grandi gioca bene perché ad agosto sono già di essere salvi e sono già che non andranno in Europa, loro giocano una gara sempre al 100% con le big e tante volte si addormentano magari contro le piccole. Sai che verranno, basta vedere la loro formazione per giocarsela al 100% e tu metti un capo in una squadra così molle con Barella davanti alla difesa, con Sanchez solo per dargli il contentino perché ha paura che poi faccia un post su Instagram. Con Di Marco invece di D'Ambbrosio che è uno che quando c'è da far legna è molto più utile. Insomma ieri proprio... Però anche Dzeko nelle ultime partite non è che fosse stato sempre al top. Va bene, però è nettamente il migliore. No ma tu sai che a me Sanchez, io non gli avrei neanche rinnovato il contratto all'epoca perché secondo me era inutile. Poi vabbè alla fine è stato decisivo per un trofeo non quanto Alexandro ma quasi. È stato più decisivo quadrato direi per quel trofeo lì. No, Alexandro. È Alexandro infatti. Dovrebbe arrivare oggi, almeno sembra comunque essere imminente anche la firma di Brozovic a proposito sul rinnovo del contratto. Fabio più Inzaghi, Simone, Andanovic, l'Inter in generale perché giustamente Claudio ricordava il periodo, non solo l'ultima partita. Ma sì, è molto difficile avere un'opinione chiara. Ci sono alcune cose che non funzionano nell'Inter e alcune secondo me sono corregibili, altre no. Allora, un problema è il portiere. Certamente Andanovic che è stato per tanti anni l'uomo in più dell'Inter con pochissimi errori e tanti miracoli. Il gol dell'1-0, Andanovic, non è solo questo, l'abbiamo visto altre volte, sta prendendo il gol del portiere anziano, scarsa reattività. Questo è un problema difficilmente corregibile. Poi c'è un problema tattico, perfettamente d'accordo, non ho capito perché mettere Barella come vertice basso del centrocampo. Barella è un portatore di palla, è un giocatore che sprinta, che aggredisce e quindi era molto più logico mettere Cialanoglu. Certo è che l'Inter è anche di fronte a una squadra molto chilometrata a centrocampo. Io ricordo quante volte mi chiedevo come mai il trio del centrocampo, che è il miglior centrocampo d'Italia, senza dubbio, cioè Cialanoglu, Barella e Brozovic, non avesse mai fatto un po' di riposo, anche magari per dare un po' più di ritmo ai vari Vidal e Gagliardini. Ma questo è un problema risolvibile. L'altro grande problema dell'Inter secondo me è l'attacco. Io oggi parlavo anche in un altro contesto. Personalmente ricordo sempre come mi illuminò il Mondiale dell'82. molti di voi ne hanno neanche nati, ma il Mondiale dell'82 era fatto da un'Italia che non riusciva a battere nessun avversario, Paolo Rossi non segnava mai. A un certo punto Paolo Rossi ha cominciato a segnare, ha fatto sei gol, credo in quattro partite o qualcosa del genere, e abbiamo vinto il Mondiale. Tradotto. Se Lautaro non segna più, se Dzeko, anche lui molto sfruttato, Dzeko è anziano, quindi insomma alla fine sentirà il peso di tutto questo sfruttamento. Se questi qui non ti fanno mai gol, tu finisci per entrare in crisi. Ne parlavamo prima. Il Milan di Gattuso, che a un certo punto diventa terzo in classifica, trova Piontek a gennaio, che fa una raffica di gol per un mese e mezzo o due mesi. Poi Piontek si ferma e il Milan viene superato da tutte le altre. Gattuso è tornato a essere un imbecille. Intendo dire, il problema dell'Autaro è grosso. Se Lautaro non esce da questa crisi, è allora sì che l'Inter rischia di perdere gli obiettivi primari, che poi è il campionato. Bisognerebbe capire se è una crisi casuale, storica, oppure se invece è l'inizio di una involuzione dovuta anche al fatto, scusate, mi taccio, che certamente prima si è esaltato con Lukaku, che era un ariete che sfondava, lui arrivava a colpire, mentre Dzeko è un giocatore più di posizione, come dire, che gioca più sulla tre quarti, che è trascinandosi dietro tutti gli difensori e avversari, quello che fa Blauvić. È molto più semplice giocare vicino a Blauvić che giocare vicino a Dzeko, con le caratteristiche che ha un giocatore come Lautaro. Questi sono intanto gli ultimi risultati Inter. Claudio, come si esce da questa situazione? Sicuramente per tornare a quello che secondo me appunto sottolineava Fabio, della crisi di Lautaro, lui tutte le stagioni, in tutti i periodi ha una fase negativa, cioè in tutti i campionati lui ha avuto un periodo dove non segnava. Questo da una parte può far sperare bene, nel senso che si può pensare come li ha superati le altre volte e prima o poi tornerà a segnare. L'anno scorso ci si è accorti meno di questa situazione, perché i due funzionavano anche alternandosi, diciamo così. Nel momento in cui non segnava Lautaro, segnava Lukaku, quando non segnava Lukaku c'era Lautaro, un po' più raramente capitava che si fermasse Lukaku. Scusami, se andiamo a vedere a oggi, dopo lo stesso numero di giornate, quanti gol aveva fatto Lukaku rispetto a quelli che ha fatto Dzeko, già vedi che c'è una differenza credo di una decina di gol. Io vedevo adesso i risultati che mostravi. Quello che può far ben sperare nell'Inter, se tu fai vedere i risultati, che è vero che ha fatto un punto in tre partite, però se Lautaro gioca normalmente con l'espressione di gioco che c'è stata nel derby, tu quel derby lo vinci 3-2, nella peggiore delle ipotesi. Se Lautaro gioca normalmente, magari col Sassuolo fai 1-1 e tu sei comunque ben oltre il livello di sicurezza lanciato verso lo scudetto. Se però quelli lì davanti faticano come hanno faticato loro due, diventa molto difficile, ma l'espressione di gioco che ha mostrato l'Inter nel derby pur perdendolo, e arrivo a dirti col Sassuolo, perché secondo tempo l'Inter ha avuto delle palle gol clamorose col Sassuolo. Beh, è ben diverso dal gioco che ha mostrato la Juventus col Torino, per esempio, venerdì. Lautaro non segna porta vuota. L'Inter non lo è mai stata, se vogliamo, neanche con Liverpool. Però l'altro problema di quella grafica è che subisce sempre gol. Sì. Sempre. Cioè, mi sembra che la Roma... C'è un problema Andanovic, mi sembra abbastanza chiaro. Non solo Andanovic, anche De Vrij nelle ultime partite. Ieri non nello specifico, però è un giocatore che ha avuto sicuramente una flessione e quando il tuo perno in mezzo alla difesa non funziona, è più difficile per tutti. Intanto sta parlando Marotta, vi do le prime battute. Dice all'autaro manca solo il gol. Frasi un po' di circostanza. Hai detto niente. In questo momento stiamo soffrendo, ma abbiamo determinazione al nostro lavoro e Inzaghi lavora in base ai nostri input, vogliamo lo scudetto e la seconda stella. Marotta che ci mette un attimo vicino alla squadra in un momento di difficoltà. Marotta che fa il grandissimo dirigente. Difficoltà, giorno dopo ci metto la faccia. Parlo, do un segnale di tranquillità, ribadisco i miei obiettivi senza nascondermi. Magari oggi c'è la grande notizia, come dicono i ben informati, del rinnovo di Brozovic. Questa è la grandezza anche dell'Inter. Cioè il giorno dopo metti subito le toppe. Io farei due considerazioni, Stefano, se è possibile. Quest'anno nell'attacco dell'Inter, secondo me, è cambiata proprio l'attenzione da noi, dalle difese avversarie. L'anno scorso Lukaku, oltre ad essere più forte di Dzeko, oltre ad essere più devastante di Dzeko, oltre ad essere totalmente diverso a Dzeko per modo di giocare, era quello che si attirava tutte le attenzioni dei difensori e tutte le attenzioni delle strategie dei tecnici avversari. Lautaro era molto più libero. Però abbiamo detto che l'Inter di oggi, come squadra, segna di più di quella passata. Sì. E allora è meglio avere il Dzeko che segna un pochino meno, ma la squadra che segna di più. Il problema è che non devi prendere tutti questi gol. Cioè la squadra che invece è il campionato non prende così tanti gol. Sì, secondo me la grande squadra e Lukaku l'ha dimostrato. Però scusate, noi stiamo dicendo che prende tanti gol. Ci sarà vero. Detto questo, rispetto a un anno fa, ne prende meno rispetto all'Inter di Conte. Sì, però l'Inter di Conte era partita prendendo tanti gol all'inizio. All'inizio si diceva anche, va meglio in Zaghi di Conte, guarda come è stata brava l'Inter, anche se ha venduto Lukaku e Akimi. Invece adesso ha otto punti meno, è vero che ha una partita in meno. E nel frattempo magari anche gli avversari, l'anno scorso l'Inter ha cambiato a un certo punto, no? Il modo di giocare... No, era per dire che alla lunga le patisci queste partenze. Sicuramente. Alla fine dei conti la squadra è comunque più debole rispetto all'anno scorso. Certo. In secondo luogo dico, Stefano, i punti sono meno. I punti sono meno. Ieri all'Inter mancavano Bastoni, Brozovic e Dzeko nella formazione iniziale. È un po' quello che ha vissuto il Napoli per due mesi. Koulibaly, Anghissà e Usimen. È vero che non è solo una questione di fortuna tenere l'infermeria vuota, perché ci sarà anche dietro il lavoro dei preparatori, eccetera. Ma se tutti avessero avuto le stesse defezioni, io non so oggi cosa saremmo qui a dire dell'Inter. Lascia perdere il Milan, parlo del Napoli, così faccio il terzo. Se l'Inter avesse avuto le defezioni del Napoli, per quanto ho visto ieri, secondo me saremmo qui a parlare di un altro campionato. L'Inter ha speso 25 milioni in contanti per Correa ed è stato a tutti gli effetti, sia per la sfortuna del giocatore, sia per un modesto contributo, un'operazione sbagliata. Correa non era un crack nella Lazio, è stato pagato caro perché lo voleva Inzaghi ed è stato, voglio dire, quello ha voluto anche dire tanto. Poi, sai, tutto sommato l'Inter come riferimento per le sostituzioni comunque ha i vari Di Marco, Darmian, Gagliardini, Vidal, Errore Correa, Sanchez, non sono così male come sostituzione. È vero, però Fabio. Io credo che anche con degli futuristi sarebbe capata bene. Perché non devo giocare a Vidal di ieri? Appunto. Vieni da una grande gara col Diva, Puglia. Perché devi mettere Gagliardini e inventarti Barella davanti alla difesa? Lì devi metterci all'anoglu davanti alla difesa, che è uno che sa giocare il pallone, fa il regista basso, l'anno scorso lo faceva alto, quest'anno ieri l'avrebbe fatto basso, ma come tipologia c'è? Anche nel Milan, quando ci ha giocato, ha un po' deludio. Non è proprio il suo ruolo, però forse come caratteristica è meglio di Barella. Tra l'altro, fallo meno. È lui che perde la palla del gol dell'1-1. Se c'è il tema che probabilmente era fallo, Claudio, tu che l'hai rivisto? Allora, secondo me, se l'arbitro fischia il fallo dal campo, va bene. Non mi sembra un chiaro ed evidente errore da scomodare il VAR. Perché ha diviso un po', anzi, quasi tutti sono per l'intervento del VAR. Perché c'era Frattesi davanti e quindi l'arbitro era impossibilitato a vedere. Questa è la tesi del doveva intervenire il VAR. Perché l'arbitro non ha avuto la possibilità di valutarlo, di vederlo, per la presenza di Frattesi, perché erano in due su Cialanoglu, Frattesi e Berardi. Se fosse andata così, sarebbe stato il primo l'arbitro a dire io non ho visto che cos'è, se invece non l'hanno richiamato, è perché lui ha detto che io ho giudicato. Quest'anno, su queste situazioni qua, adesso sto andando a memoria. La mente si fischia. Esatto, sto andando a memoria perché ogni lunedì, l'unedì, abbiamo già visto dei gol così. No, ma si tende, allora il primo anno di VAR si tendeva molto ad andare a rivedere, adesso non più. Cioè i casi... No, perva rivedere ma non si punisce. Ma i casi di gol annullati... C'è stato poi il caso di Orsato con Cialanoglu, che per un fallo molto più evidente, molto più grave, è stato richiamato, ha detto ma no dai, lascia perdere, lascia perdere. Secondo te non era fallo, Fabio? Su Cialanoglu? No, con il Milan, credo fosse con il Napoli. No, certo, no, dico la partita di ieri, dell'Inter, quando c'era una gruppa per le palle. No, sì, secondo me se dai fallo ci può stare, ci può stare il fallo, però non è di quei falli clamorosi che dici, beh, però allora, cioè, la penso come Claudio. Potevi darlo, ma non è uno scandalo non averlo dato. Intanto non sarà oggi il rinnovo ufficiale di Brozovic, l'ha ufficializzato, diciamo così, Marotta, che ha detto entro pochi giorni comunque rinnoverà. La vittoria di Pasquale Guarro, eh? Sì, che aveva detto, siamo vicini. Pasquale Guarro che dice, rinnovano ma non oggi, spero di essere smentito, c'è qualcuno che si è portato un po' troppo avanti col lavoro, diciamo, soprattutto sui social. Esatto, e poi ha parlato di Scamacca, Raspadori e Frattesi. Andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo da qui, a tra poco. Rieccoci, come vi dicevo, ha parlato anche di mercato Marotta, tra poco vediamo nel dettaglio quello che ha detto, però Fabio ti chiedo queste parole, Marotta ribadisce, abbiamo perso meritatamente ma vogliamo la seconda stella. è una vicinanza verso l'allenatore, mette pressione? Inzaghi è in discussione se non vince la seconda stella. Boh, mi pare, cosa doveva dire di diverso? No, dico niente, però ha voluto dirlo, ecco, ha voluto ribadire. Una vista preventiva, no? L'Inter ha fatto un punto in tre partite, lui porta un po' di serenità, ma non mi pare che abbia detto niente di più e di diverso da quello che dovrebbe dire un buon dirigente in una situazione di questo genere. Per quanto riguarda il mercato, dice, Perisic e Andanovic meritano la riconferma. Dialogheremo con loro. Perisic siamo tutti d'accordo, su Andanovic secondo me c'è dibattito, no? Sì, con tutto che Perisic bisogna vedere anche quanti anni, secondo me, firmi il prolungamento di contratto, perché… Si parlava di due con opzione per il terzo. Ecco, se già non fosse triennale di partenza, può essere un discorso, e poi anche le cifre bisogna valutare, perché comunque tu hai preso, secondo me, quello che sarà il titolare in ogni caso l'anno prossimo, cioè Gosens, e quindi il discorso va fatto anche in una valutazione economica di un giocatore che sta facendo benissimo, non so quanti si potessero aspettare un rendimento così di Perisic, però proprio anche il fatto che nessuno se l'aspettasse fa capire che forse sta anche un po' overperformando, come dicono quelli bravi. Per quel che riguarda Andanovic… E perché poi si resta, fa il secondo… Si innesta, secondo me, è una situazione che può essere interessante da un certo punto di vista, perché Onana va visto e al limite è un paracadute che però… Gli darei 4 o 4 e mezzo a Onana e non lo prendi per fare il secondo. No, no, però tu non sai mai con i portieri cosa può succedere anche quando l'Inter ha preso Sebastian Frey. Il problema Claudio è anche la disponibilità di Andanovic, cioè la storia che ci ha raccontato il procuratore di Radu non è esattamente una storia che fa pensare che Andanovic sia uno disposto a favorire l'ingresso da titolare di un portiere straniero che arriva da un altro campionato senza battere ciglio. Forse in una situazione di questo genere bisognerebbe anche avere… Cioè se Andanovic è così, e il procuratore di Radu, avete visto un'intervista, no? Che dice, ah, è uno che nemmeno parla al mio assistito, non gli fa giocare una partita neanche per sbaglio, almeno in Coppa Italia poteva, invece vuole fare tutto lui. Ecco, arriva Onana, Andanovic cosa fa? Capisce che deve fare il padre nobile oppure si gioca al posto e magari in qualche modo da capitano sfrutta anche un rapporto migliore che ha con i compagni di squadra? Questo è un tema. Ma Fabio, su Andanovic, prima non ti ho chiesto, è un problema da qui alla fine del campionato per l'Inter e che non si potrà risolvere se si giocava per Andanovic. Guarda, io sono sempre stato un grande stimatore di Andanovic, mi è sempre piaciuto tantissimo e l'ho sempre considerato in questi anni il miglior portiere della Serie A. Secondo me, diciamo, negli ultimi cinque anni ha avuto una costanza di rendimento, una capacità nettamente superiore a Donnarumma, superiore anche a Scesni. L'anno scorso ho visto le prime crepe, quest'anno ho visto crepe piuttosto importanti. Oltretutto, nel momento in cui tu non hai più la fiducia dell'ambiente, visto che lui ogni tanto risponde anche a muso duro, alle critiche, questo non fa bene alla serenità di un portiere. Non pensavo che potesse avere uno scardimento così veloce. Se andiamo a vedere, ha fatto alcune parate, poi uno vede la paratissima, dice sempre, vedi com'è bravo, ha fatto la paratissima, ma io contro il numero dei gol che potevi evitare, quest'anno sono superiori all'accettabile e temo che l'anno prossimo sarà ancora peggio. Stasera alle 19 in campo il Napoli, ovviamente la seguiremo con la cronaca di Mimmo Pesce, cambiano un po' le gerarchie in campionato con il Napoli che può raggiungere il Milan in testa della classifica. Sai cosa? Sento, anche oggi, adesso mi piolizzo, ma anche oggi è tutto un, eh vabbè l'Inter non è perso, ma tanto poi il campionato, lo vincono facile. Ci piolizzo. Per come hanno perso ieri, mi aspettavo oggi più scetticismo. Più scetticismo. Ma sì, tanto vinceva, sì. Se va avanti col Barcellona, il Napoli si spegne. Alla fine rischia veramente di rimanere con ieri di mano e per come è andata la stagione. Va bene, che iniziano, ci diranno, sì ma noi abbiamo venduto a Lukaku, a Kimi. Oh, se non vedi questo che ha prelato, insomma, è una bella delusione, è un bel, non voglio dire fallimento, però non brecchi se è in pacella, eh. Cioè perché onestamente quello della Juve che va così male, l'Inter lo doveva ammazzare al suo campionato. Beh scusami un attimo. Beh però ammazz... Ecco però vedi, scusami, perché devi dire che lo deve ammazzare? Perché è troppo più forte. Sei appena detto che ha tolto tre pedini. È troppo più forte delle altre. E le più sette. Non è per me che le altre ha perso dei pezzi, Algario. In Milano ha perso... Un Napoli che pezzi ha perso, scusami, rispetto un anno fa, che pezzi ha perso? Ma cosa ha aggiunto, dai. Non ha aggiunto, ha aggiunto Anguissa. Beh intanto ha aggiunto Cosimane, gioca tutto l'anno e non gioca a mezza stagione. Spalletti in pantina. Ha messo Anguissa che è un bel giocatore. E Spalletti in pantina. Ha messo un allenatore che prima non aveva. Ma era una squadra che era arrivata a sé, no quinta, no sesta addirittura forse. Dice quest'anno vince il campionato. Tu Fabio da che parte stai? Per andare sul campionato per me, boh. Ma abbiamo fatto tutti pessime figure su questo campionato. Io credo che un osservatore che per tempo abbia avuto delle intuizioni certe e di cui potermenar vanto non ci sia. Nel mio piccolo, io l'anno scorso avevo detto, per me l'Inter è nettamente più forte delle altre e vincerà il campionato. Non ci avevo preso. La Juve è un punto di domanda. Non so come finirà. Bene o male ci avevo preso. Sul Milan mi aspettavo che arrivasse in volata per arrivare in zona Champions. Poi è arrivato il secondo, ma bastava in quella giornata lì una combinazione di risultati. Ecco, mi è capitato di averla vista abbastanza giusta. Io quest'anno non ci ho azzeccato su niente. Mi sembrava che la Juventus con Allegri sarebbe stata con l'Inter la squadra che arrivava fino alla fine. E la Juve è crollata. Rimango convinto che l'Inter sia una squadra comunque talmente forte da vincere, anche in una stagione non brillantissima. Ha ragione Matteo su questo, ma comincio a avere dei dubbi. Torno a dirti. Se Lautaro non comincia a fare gol, sono guai per l'Inter. L'Inter si è scoperta improvvisamente, privata dell'attacco atomico che aveva un anno fa. Lukaku da solo trascinava la squadra. E quindi bravo Conte che l'ho messo in condizione di farlo. Klopp non ci sta riuscendo, per esempio. Però se Lautaro non arriva a quota 22-23 come al solito, se Lautaro va in una crisi sua personale, sistemica di gioco, diventa dura. Perché l'Inter ha pochi giocatori capaci di fare gol quest'anno rispetto a un anno fa, per tante ragioni. E' questo che preoccupa veramente. Però rimango dell'opinione che alla fine l'Inter arriverà prima. Anche perché comunque, in teoria, uscendo dalla Champions e avendo superato un po' questa fase del calendario... Diamo un occhio alle prossime partite, Claudio, che sono queste. Il Genoa, poi il Derby in Coppa Italia, Inter-Salernitana, il ritorno con il Liverpool, il Toro, la Fiorentina e la Juve, arriviamo ad aprile. Sì, però il Toro, la Fiorentina e la Juve, non è che c'è esattamente tre partite agevoli. Dopo il Liverpool. Di facili c'è il Genoa e la Salernitana, ma le tre dopo sono impegnative. Anche perché comunque è vero che magari esci con il Liverpool, ma la partita di Champions comunque un po' ti porta via. Ah beh, quella devi fare lo stesso. Quella senza di intelligente la giochi con... E la Coppa Italia comunque... No, ma è come inizia. Sì, non è inizia. Ancora, stai scherzando. Ma ancora, non ci penso nera. La giochi con il Reissere, è la primavera. Ma vivi per fare queste partite... Ma un giocatore vive per fare queste partite? Inizia la primavera. E tu gli dici, no, manda la primavera. Scusami. Voi la pensate così? Ma ho visto una squadra che ha perso e poi manda la primavera. Non è mai successo? Sarri non mi piace, ma su questo, ovvero ieri ha dichiarato Senza Europa League Noi saremmo in zona Champions Sì certo Ha ragione Te lo racconta lui infatti Ha ragione Ha ragione Le cose che si dicono Quando non sai più dove Ha ragione Colpa dell'Europa Sia Benedetto per il Milan E quel quarto posto lì Nel girone Piuttosto che il terzo Sia Benedetto Ho visto questa settimana Senza Coppe Come ha preparato Ma questo weekend Ma ragazzi Ma in questo weekend Ha vinto solo la Fiorentina Ma le altre squadre Avevano la Champions League È imposato È imparaggiatta a Salerno Ho capito Senza giocare di Coppe Tornando al discorso di prima Io sul Napoli direi Che se va bene Questa è la settimana Che smentisce proprio Quello che dici tu Ma ragazzi Ma il Milan Il Milan ha le coppie E ha fatto una partita Bruttissima a Salerno Grazie Se passeggi Per volontà tua È normale che non Ma non era questa Il Milan non è che ha perso Perché non era preparato Tu hai detto Benedetto il quarto posto No No Io dico Che a livello fisico Il Milan ha pagato Un aspetto mentale Che non c'era E non resiste L'anno prossimo Nel girone Ma invece chi gioca le coppe Paga a livello fisico Non mentale Nel girone di cento Sanno la prossima Manda la primavera Ma sì Così arrivi quarto Sicuro Senza sprecare energie L'Inter Sa che con Liverpool Non andrà avanti Sa benissimo Che la partita Volentemente Ti toglierà delle energie Io un calcolo Lo farei Poi voi siete di un altro parere Sì Ci sta Ma sì Ma perché non puoi Togliarti l'opportunità Vai direte Un tifoso dell'Inter Cosa sceglierebbe Tra passare O giocarsela Benissimo A Danfield E vincere Per un po' Le altre campionate Passare Ho capito 3-0 A Danfield Non lo fai neanche 2-0 Voglio sapere Anche cosa ne pensa Fabio Ci sono novità Per quanto riguarda Il futuro di Leao Andiamo un attimo In pubblicità E partiamo da qui Io ho detto passare Rieccoci Tra poco la novità Che riguarda Leao Prima però Concentriamoci Sulla partita Del Milano Sulla non partita Come l'ha definita qualcuno Fabio Intanto ti chiedo Se Ha ragione Cuomo Cioè Essere fuori Dalle coppe Porta poi A rendere di più Un campionato Beh Un dato di fatto Perché avere meno impegni Ti permette di concentrarti di più Il problema è che Il Milan non si è concentrato Per niente Cioè Non La partita è stata Veramente molto Molto deludente A me pare Che questo accada Per Per due ragioni La prima è che Il Milan non ha Una squadra Strapotente A livello Di Imporsi Non ha la qualità Per andare a Salerno Non essere al 100% E vincere Questa qualità Ce l'ha magari L'Inter Ce l'ha magari La Juventus Perché adesso Ablaovic Che ti inventa un gol Il Milan No Se tu vai a vedere Come era composta La formazione del Milan A Salerno Capisci che Avevi Messiax Ex Crotone Giroud Parametro zero Scartato da molte squadre Che l'avrebbero preso al più Come complemento Non certo come Centro Avanti titolare Leau che è sempre Molto alterno Ben Nasser Dietro Scusami Brain Diaz Dietro Che L'ultimo gol L'ultimo assist A risale A sei mesi fa Capisci che Con quattro così Lì davanti O tu arrivi Con gli occhi Miettati di sangue Come nel derby Oppure rischi Brute figure Il vero problema Del Milan Secondo me È questo Perché perde Sempre le stesse partite O pareggia Sempre le stesse partite Con le stesse squadre Dicono perché Pioli Non sa dare Quella cattiveria Alla squadra Quella capacità Di concentrazione Quella rabbia Io dico perché Invece Quando non hai Tantissima qualità Può succedere La qualità Tu la vedi Soprattutto Contro le squadre Più deboli Contro le squadre Più forti La qualità Paradossalmente Ti serve di meno Ti serve Stringere i denti Ti serve approfittare Di un contropiede Ti serve fare Quello che hai fatto Contro l'Inter Se vuoi Ma hai visto Che contro la Sampdoria E contro la Salernitana La qualità Non eccelsa Del Milan Assoluta Si vede Proprio perché È lì Che tu dovresti avere Il giocatore Che da solo Ti cambia la partita E il Milan Non ce l'ha Queste nel dettaglio Sono le ultime partite Del Milan In campionato Vince il derby In rimonta Pareggia con la Juve Con la Sampdoria Una vittoria Senza soffrire Poi il pareggio Di Sabato Se tu analizzi Permettimi Le tre Diciamo pure Le cinque ultime partite Del Milan Il Milan Perde in casa Con lo Spezia E lì adesso C'è la narrazione Di Martinelli Che abbiamo perso Per l'arbitro Un furto In realtà Non ti hanno dato Una regola del vantaggio Il gol annullato È arrivato Dobbiamo essere sinceri Forse anche perché Intanto siano fermati Un po' tutti Cioè quando calcia Messias Sa già che c'è stato Il fischio Che è un calcio Quasi inutile Comunque insomma Non puoi dire Mi hanno fatto Dei torti arbitrali Tremendi In realtà Hai giocato Una partita Mediocre Poi Pareggi con la Juventus Che non è esattamente La Super Juve In casa Con l'Inter Giochi Oggettivamente male E poi ti gira bene La partita Che è un merito Però insomma Non è che hai fatto Un partitone Un po' di fatica Con la Samp E molta fatica Con la Salernitana Non è esattamente La radiografia Di una squadra Di salute Ma guarda Con la Samp È un risultato Secondo me Che vederlo così Ti dà una percezione Avendola vista Poi secondo me Come partita È tutt'altra Il Milan Con la Samp L'unico problema Che ha avuto È che quando ha avuto Le occasioni Rebic Si è addormentato Perché con Leao In campo E non Rebic Secondo me Finisce 3-0 Almeno Perché qui gol Un attaccante Li doveva fare Primo punto Secondo me Questo è uno score Di cui dobbiamo Tenere conto Non arrivo a Serra Per me Quello comunque È un errore Che pesa Cioè È lo spartiacque Di una partita Che il Milan Aveva colpevolmente Giocato male Sottotono Contro una Delle ultime In classifica Ma questo score Quest'ultimo score È sicuramente Diciamo Caratterizzato Anche Da delle assenze Pesanti Cioè il Milan Fa 4 vittorie Due pareggi E una sola sconfitta Con una difesa Che Fabio Lo dice spesso Se fosse la difesa A nomi Di una squadra Di metà classifica Nessuno Si scandalizzerebbe Tornando a cosa È successo Sabato Il primo che rimangono I due punti di Salerno Ma che è che se tu Guardi lo score Hai fatto quello che dovevi fare Bravo Sono d'accordo con te Cioè per me Questo è uno score Ma per me Questo è uno score Alla fine Salerno Pagli L'errore Del quartiere E l'errore Di Toguolo Ragazzi a Salerno no No a Salerno paghi Ma cosa è successo A me neanche Si è saltato troppo Stefano Il Milan vince A Madrid E lo oggi A tutto spiano Gioca col Sassuolo Passa in vantaggio subito E fa lo stesso errore Di Salerno Cioè Noi abbiamo sempre detto Questa squadra Fabio citava i giocatori Diceva uno arriva dal crotone Sì Questi sono quelli Che però portano il Milan In testa la classifica Come? Avendo sempre Un atteggiamento umile E dando sempre Il 100% E noi abbiamo sempre detto Questa è una squadra Che se dà Meno del 100% Diventa vulnerabile Contro chiunque Il Milan La fotografia di sabato sera Sai qual è? È quella di Leao Che anziché pensare A passarla al compagno Cerca un fallo di mano Inesistente in aria Tutti che camminano Questi che ripartono In contropiede Menian che esce Non si sa per quale motivo Al limite dell'area di rigore Su Diuric Che è alto Due metri e cinque Fa la papera E Bonazzoli Segna rovesciata Questa è la fotografia Di Salerno Cioè un giocatore Che anziché pensare Al passaggio Pensa a prendersi il rigore In maniera furbesca E poi cammina E si subisce il contropiede In vantaggio 1-0 Contro l'ultima in classifica E tu sei la prima Per me questo è inaccettabile L'atteggiamento Però la papera di Menian È stata inaspettata Ragazzi Nel senso Dopo averlo esaltato Io qua sposo perfettamente Quello che dice Cristiano Rui Cioè Gli elogi a Menian Hanno due fini Il primo È elogiare Una grande operazione di mercato Di Maldini E Massara E la seconda Consentitemi È sminuire Un po' Quello che Il cosiddetto vuoto Lasciato da Donnarumma Cioè facendo passare Donnarumma Come uno normale No? E quindi esalto Quello che c'è adesso Ragazzi Menian Non era Yashin Prima di Salerno Non è Non è Uno qualsiasi Oggi Ha fatto un errore Che ha dimostrato In tutte le altre partite Di poter benissimo Far dimenticare Donnarumma Perché Nelle altre partite Non mi sembra Che abbia mai fatto Papere particolari Mentre il predecessore Era solito Farle Magari era In questo Non ha ridotto La frequenza Però Quello che non mi è piaciuto Di Menian Claudio È che lui Fa l'errore Se lui Da qui a fine campionato Ne fa altre cinque così Si dirà Donnarumma Era meglio di lui Se Questa resta L'unica Della stagione Perché questo errore Pesa di più Non era facile Sostituire Donnarumma Anche psicologicamente Noi arrivavamo Dalla settimana Di massima esaltazione No L'assist Ma lui stesso Secondo me Sulle ali dell'entusiasmo È andato A cercare una palla Il parcheggio Il parcheggio San Siro Ma vi dirò di più Quello che non mi è piaciuto Di Menian È che lui lì Ha staccato l'interruttore Cioè Quando lui perde Quella palla Con Bonazzoli Questa narrazione Quomesca Di questo Milan Che è bravo Che è bello Che ha fatto Quello Io però Non la condivido Mica tanto Cioè Se tu pareggi In casa Dell'ultima in classifica Se perdi In casa Contro la Quart'ultima in classifica Se non vai Al di là Dello 0-0 Contro la quinta In classifica Juventus all'epoca Se giochi il derby E ti fanno un mazzo Così E poi ti salvi Diciamo la verità Dopo aver visto I sorci verdi Tu non mi puoi venire A dire Che questo è il ruolino Di una squadra Che vince lo scudetto Cioè C'è un problema Di flessione Di rendimento del Milan Rispetto per esempio All'abbio di stagione In cui il Milan Giocava molto bene Imponeva il suo gioco E vinceva Perché era partito a razzo Che è evidente Cioè Noi non possiamo dire Che l'Inter È in crisi E il Milan sta bene E sta facendo il suo L'Inter è in crisi E il Milan A sua volta Sta perdendo punti Perché mentre Tutti si spregano le mani Dicendo Che bello Abbiamo guadagnato Un punto sull'Inter Arriva il Napoli Magari ti raggiunge E poi il Napoli Ti gioca contro in casa Allora dobbiamo chiarirci O siamo tutti d'accordo Nel dire Che il Milan È una squadra Così Pioli si tranquillizza Che non può vincere Lo scudetto Perché non ha abbastanza Qualità per farlo Ma sta facendo Una buona stagione A tratti anche ottima Sebbene sia arrivato Quarto su quarto In Champions League E naturalmente Vedremo in Coppa Italia Perché se esci in Coppa Italia Nel derby E arrivi terzo Insomma hai fatto Una stagione Da sei e mezzo Oppure Oppure diciamo Che il Milan È una squadra Che può vincere Lo scudetto E allora diciamo Che gli ultimi Cinque risultati Come espressione di gioco E punti Sono stati inferiori Alle attese Per me è una squadra Io ripeto Nel dire Nel sottolineare In maniera negativa Due volte con la matita rossa L'atteggiamento Della partita di Salerno Io ti sto dicendo Che probabilmente A questa squadra Manca ancora Uno step di maturità Per stare lì in alto Certo Sono pienamente D'accordo con te Se tu vedi Dei 15 punti A disposizione Che avevi Nelle ultime 5 Tu quando hai vinto Hai vinto Con la Sampdoria C'è un dato Fabio C'è un dato Ancora più Poi 7 Con il pareggio Con la Salernitana E 8 Con il pareggio Con la Juve Cioè hai fatto 8 punti Su 15 Ok E oggettivamente Il tuo calendario Che si chiamava Spezia Juve Inter Sampdoria Salernitana Era un calendario Relativo Relativamente agevole Sì poi vedi Di questo qua Juve Inter No esatto Di questo qua C'è Roma Juve Inter E il Milan Ha fatto 7 punti Con queste 3 Almeno mancano Punti Salerno Io lo dico Sono d'accordissimo Con te Perché Al piatto D'offenza Vero malissimo Cioè qui saremmo qua 5-1-1 Nelle ultime 7 Con Inter Roma E Juventus E l'unica sconfitta È quella macchiata Non decisa Diciamo macchiata La Roma Va un po' rivista Come grande squadra Sì sì Pararebbero tu Però non è lo Spezia È chiaro È sempre la Roma Se mai ti manca Con due punti Perché lo Spezia L'avevi già recuperato Vincendo il derby Quindi è già Che non l'avevi messo In preventivo Però quello che dice Fabio Non è il modo In cui hai fatto queste partite Non le hai fatte Un po' col fiaccione C'è un altro dato Sono due errori individuali Allora Claudio Ma come prima abbiamo detto Andanovic ha sbagliato De Vrij sbaglia E sbagliano anche gli altri Allora io ti dico Se Rebici non pesca l'angolo Un po' così Questa addirittura la perdi Cioè è una partita Decisa dagli episodi Anche a favore E come le hai giocate Che ti deve interessare È quello Perché l'errore Lo può fare Mignan Ma torse l'anno Deve vincere sei a due Sì E chi sei freddo D'errore di Mignan Ecco ma mi interessa Fabio Che idea ti sei fatto D'errore di Mignan Ma L'ha fatta grossa Ha fatto due errori Uno dopo l'altro Clamorosi Donna Roma Ne faceva Anche di più In una stagione Quindi io Sono fieramente contrario All'analisi di Rui O' vero è Che esaltare Mignan Serve soprattutto Ecco insomma Tutti volevano esaltare Diaz Per dire molto meglio Di Cialanoglu Poi hanno rinunciato Però Direi che Di Mignan Penso che si possa dire Che ha sbagliato Due partite In tutta questa stagione Facendo parate straordinarie In tutte le altre Di Donna Roma Mediamente A stagione Di partite Con clamorosi errori Ce ne erano almeno 4-5 Quindi mi pare Che sia comunque meglio Dell'ultimo Donna Roma E anche del penultimo Dobbiamo parlare E approfondire Il discorso Leao E poi ci spostiamo Sulla Juventus Perché a vigilia di Champions Ha parlato Allegri Ma soprattutto Abbiamo delle immagini Incredibili Da farvi vedere Perché c'è stata Un'entrata Di un giocatore Della Primavera Su Rabiot Che l'ha steso Probabilmente Rabiot Verrà convocato Non verrà convocato Comunque in dubbio C'è ovviamente Il caso di Bala Andiamo un attimo In pubblicità Ripartiamo da qui Rieccoci Prima di passare Alla Juventus La notizia Di Leao Immortalato ieri A Seregno Dal nostro Nicolò Schira Che ci aveva anticipato Insomma La possibilità Del rinnovo Del contratto Ecco Cos'è successo Oggi Il TAS Condanna Il Lille Solo il club Dovrà risarcire Lo Sporting Quindi non Leao Che quindi Può risparmiare Questi 16-20 milioni Di euro circa Da dare Allo Sporting E per qualcuno Questa notizia Indurrà Leao A chiedere Meno soldi Al Milan E quindi A chiudere Verso i 4-4,5 Più bonus Fino al 2026 Ecco Che era già Un accordo trovato Poi il giocatore Voleva capire Ti sembra una follia Fabio? Allora Intanto vi dico una cosa Che leggevo adesso Da un tweet Di Eva Provenzano Sì Nel Marottese Quando voi dite No ma adesso Rinnoverà anche i contratti Di Perisic E di Andanovic Nel Marottese Per come io posso Dice una cosa Molto diversa Perché Marotta dice Rinnovo di Marotta Di Andanovic E Perisic Risposta Abbiamo la fortuna Di avere a che fare Con professionisti In scadenza Ma ad ammirare Come lui E Perisic Riprendersi a Dandanovic Due professionisti Con cui vogliamo Dialogare Senza fretta Perché meritano La ricomposta Cioè palla in tribuna Non è che ha detto Rinnovo Quindi Vogliamo dialogare Senza fretta Essendo soltanto Quasi a marzo Mi fa Mi fa capire Che non Su Leao Sono un po' più lunghi Datemi Datemi cuomo Dunque Leao In questa Stagione Ha fatto Sette gol In Serie A Attenzione Fabio Perché Vi faccio vedere Il tweet Di poco fa Di Leao Eccolo qua Sun Con la cicogna Che porta Quindi arriva Il rinnovo Eh sì A me lo abbia messo Incinta qualcuno Non lo so Casi sono due Ecco questo Non è fidanzato Per molto tempo Però Avendo fatto Sette gol In Serie A Quest'anno E sei l'anno scorso E sei l'anno prima Sono andato a vedere In Portogallo Under 21 12 o 13 Presenze Un gol Poi sono andato a vedere Ma lì posso aver sbagliato Portogallo Titolare No Una nazionale portoghese Tre presenze Allora dico Ma voi siete Così sicuri Che un giocatore così Meriti 4,5 milioni Di euro Più bonus Per quel poco Che ha fatto finora E una scommessa Sul futuro No Perché se tu dovessi Perisic Ne chiede Perisic ha fatto Una stagione Vagamente migliore Di Leao All'età A dieci anni di più Sono d'accordo Ne chiede Mi pare Tre e mezzo Secondo me Ribadisco Legarsi con un quadriennale Barra quinquennale A un giocatore Di anni 22 Che non è neanche Titolare della nazionale portoghese Che in fin dei conti Quest'anno ha fatto Alcune cose eccellenti Ma poi ogni tanto Stacca la spina E viene spesso Volentieri sostituito Per scarso impegno Perché di questo Ha parlato Pioli Per me è un enorme rischio Che non vuol dire Non adeguare Di lo stipendio Ma 4 e mezzo Più bonus Secondo me Segnatevelo Siamo a febbraio 2022 Vi portate a prendere In giro Alternative a zero Perché fra due anni Chissà dove sarò Però Non so se è la miglior Soluzione possibile Per il Milan Mi restano dei grossi dubbi Caroni Poi passiamo alla Juve Capisco che i numeri Non siano da 4 e mezzo Ma l'alternative Perderlo a zero Perché tu devi arrivare A fare No lo vendi Matteo Io dico lo vendi Ma certo Perderlo a zero No Ma siccome Ti scade tra un anno e mezzo Però subito Tu lo vendi Prendi i tuoi 25-28 milioni di euro Che sono quelli Che avevi speso Per prendere No Fabio Dai Se costasse 28 milioni di euro La fila Arriverebbe Da casa Milan Alla redazione Ma se non è neanche Titolare nel Portogallo Vabbè ma gioca lì Fabio è stato convocato Quest'anno Gioca con Cristiano Ronaldo No poi In Portogallo Davanti a un paio Di ranno Cosa dici Ronaldo John Felix Bernardo Silva Baruno Fernandez Cioè Hai capito Non è giocato Nel portogallo Nel Milan In Champions League Ha fatto un gol In sei partite Non lo so Per me 4 milioni e mezzo Più premi Sono una follia Allora devi vendere L'alternativa È la vendita Quest'estate Perché è 50 Però Certo che lo venga Se me ne danno 50 Tanto di guadagnato Sì Ho qualche dubbio Che ci sia un club inglese Pronto a dare 50 milioni Che che ci raccoglie Che Manchester City Lo vuole a tutti i costi Glielo diano Perché io 4 milioni e mezzo Per uno così Un po' Svogliatello Che ogni tanto c'è Ogni tanto non c'è E che l'allenatore Ribadisco L'allenatore Che è uno che non parla mai male Dei suoi Arriva e dice L'ho dovuto togliere Perché o si mette in testa Che deve correre come gli altri Non ci siamo Non lo farei Intanto Salerno è rimasto in campo L'unica partita Forse doveva essere sostituita E rimasto in campo Vabbè Salerno non ha fatto sicuramente bene Comunque continueremo ad approfondire Il tema Leao Dicevo spostiamoci alla Juventus Perché guardate queste immagini Siamo nel Torello Pre Vigilia di Champions League E guardate l'intervento Ai danni di Rabiot Perché vedete Intanto Caio Giorgio Che ride Sorride Siamo proprio Appena prima dell'allenamento Tutti che firmano questo Torello C'è Quadrado E poi vedete che Come un pazzo Si avventa su Rabiot Lo stende Si chiama Stramaccione E Rabiot lascia Quadrado gli fa i complimenti Bravo Bravo Però Rabiot Rabiot resta Resta infortunato E resta con la caviglia colpita Vedete che poi Tutti si preoccupano Si avvicina Bonucci Si avvicina Zaccaria E Rabiot ha male Quadrado lo prende in giro La paura è che si possa Stramaccioni Stramaccioni Intanto Stramaccioni Si chiama Il ragazzo della primavera Poverino Stramaccioni Poi si avvicinano tutti E Fabio Alla fine possiamo dire Che è stato convocato E Rabiot Perché adesso vediamo Anche la lista dei convocati Appena uscita Però insomma Ci sono stati momenti Ci raccontava Gallo Di agitazione Poi dopo Ebbene credo Sembra agonizzante Me lo fai rivedere dall'inizio Come no Adesso Facciamo Mi spiace per Rabiot Però In effetti Quando va male E' come qualcuno Che sbaglia manovra E' come un televisore Ecco insomma Allora Però non penso Che Stramaccioni Aspetta perché Difficile puntarlo Però arriviamo Sì Quindi Ci sarà Rabiot Che sia Però una brutta notizia Parliamone Beh dai Matteo E' comunque un giocatore In meno nel caso L'arriva in panchina Adesso non è che Vedete che Stramaccioni E' lì in mezzo E poi parte come Un pazzo E fa un intervento Veramente che Per carità Infatti c'è Zaccaria Che lo guarda Dicendo Oh ma com'è Invece Quadrado Spietato Dice bravo Quadrado Zaccaria dice La prossima volta Più forte Qua si gioca così Ragazzi Quadrado E' il mandante Secondo me Non lo voleva in campo E' il gioco a Stramac E gli ha detto Bravo Ottimo lavoro Qua si gioca così Adesso ti do un altro nome Stramaccioni L'anno prossimo Giocherà in grumellese Vedete che De Ligt Chiava il medico Dice vieni perché qua Stiamo lì dentro Di Balla per una roba del genere Chiamano l'ambulanza Eh si Di Balla credo di si Però detto questo Oh io posso Povolo Stramaccioni Stramaccioni non sta avvicinando neanche Eh no Eh non sa più dove guardare Dice Non ho fatto apposta Guarda guarda E' lì dietro E' lì dietro No ma io Poi sotto la maglietta Villa Real probabilmente Non ho fatto Esatto Non ho fatto apposta Ecco qua Dove dite al Degri Proprio neanche per Per sbaglio Si avvicina Vedi che Quadrado Però continua Quadrado dice Doveva saltare Rabiot Vedi che ha fatto il salto Quadrado dice Però doveva saltare Poi se ne va Mi piace Mi piace E lui continua però Ad aver Ad aver dolore No no ma infatti poi si vede Che si vedrà Vabbia E questo è E questo è E poi che rimane Di Rabiot È soffica Tanto sulla sinistra Cioè praticamente L'allenamento Per la stampa È aperto un quarto d'ora Tipo di fare Di infortunio di Rabiot Si 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 Dico si accasola di nuovo Si 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 Gli fa male Gli fa male C'è da fare Gli fa male È una Sarà una distorsione Dai su Su Si poi E Stramaccioni Torna in mezzo al Torello Pronto per un'altra E le scivolano Allora Queste erano le immagini Però vi faccio vedere I convocati Perché eccolo qua C'è Rabiot Sono appena usciti i convocati C'è Rabiot Che però non sarà il meglio Ecco magari Dopo questo intervento Ma ce lo guardiamo Almeno finalmente potrà vedere Il centrocampo che voglio io Cioè? Saccharia Lucatelli Meccani Che dice Allegri In conferenza con Morata? Dice Anzitutto Ma è un po' contraddittorio Perché dice Abbiamo il 50% Di chance di passare Però dice Comunque puntiamo A vincere la Champions È il nostro sogno E non ci nascondiamo Poi però dice Non bisogna mettere pressione A questa squadra Eccolo qua Insomma è un po' contraddittorio Ecco Nelle varie dichiarazioni Dice Io devo proteggere Vlovic Perché C'è troppa pressione Su di lui È la prima gara in Champions E tutti hanno aspettative enormi Quindi lo devo proteggere Però dai Quando l'abbiamo pescato Era il dodicesimo Il Liga adesso è quinto A tre punti del quarto posto È una squadra In grande crescita Anche voi eravate dodicesimi E siete quarti adesso Beh no dai Noi a dicembre Eravamo già in risalita Eravamo già quenti No dai Era in realtà La remontata Maniavantismo Fabio di Caroni È pazzesco È grande squadra Via reale Senti Di bala non convocato Di bala non convocato A questa allungazione Muscolo L'ultima volta Che era allungazione Ci ha messo quasi un mese A tornare Che in teoria Non sarebbe una lesione Quindi Non si sa Però Mi pare di capire Che adesso Veramente Si è anche una partita Scala Ieri sera Ci ha già detto Chi sarà Il posto di di bala L'anno prossimo Che è il Zagnolo Zagnolo Il posto di di bala Beh in effetti Fabio abbiamo Appena montato Perché era in discoteca 20 secondi Fabio In effetti Il rinnovo di di bala Dopo questo ennesimo infortunio Entra complicato Avrei di dubbi Anche sull'operazione Zagnolo Anche io Quello che devi dare la Roma E quello che devi dare la Roma Anche io Continuiamo a parlarne Qui su Top Calcio 24 Grazie Fabio Poi E anche con I vostri interventi Tanto calciomercato Sta arrivando Nicolò Schira Grazie a Garioni Cuomo e Caronni Continuiamo tra pochissimo